bufera su ballotelli dopo lo scivolone fatto con diane mello seguiamo insieme il video e vediamo un attimo che cosa è successo corto come concorrente nella casa del grande fratello ti vuole lì dentro mi vuole dentro però poi dice basta basta fai male hai capito diane come la prende in giro mamma mia mario ballotelli ieri sera nella puntata del grande fratello del 23 ottobre entrato nella casa più spiata d'italia per incontrare il suo fratello enok e parlare con gli altri gifini il calciatore però come sappiamo non è abituato a essere in televisione così ha fatto delle gaffe che non sono passate assolutamente inosservate infatti mario ballotelli ha precisato di non essere abituato a stare proprio davanti ai riflettori e quindi si è scusato con il pubblico a casa se magari qualche volta mentre parlava con suo fratello sono volate delle parolacce non sorprende dunque lo scivolone veramente di cattivo gusto io commento così fatto proprio nei confronti di diane mello e ripetiamo li ho fatto già vedere video ma voglio dirvelo anch'io alfonso signorini ha chiesto a diane se vorrebbe ballotelli nella casa lei ha risposto di sì così il conduttore lo ha evidenziato e gli ha detto mario diane ti vorrebbe lì dentro la risposta però del calciatore ha già dato la modella come il pubblico a casa e gli ha detto mi vuole lì dentro poi dice basta basta fa male diane come abbiamo visto nel video ha si limitato a dire un non commento ma il sorriso e la risata di ballotelli sinceramente ha dato fastidio ed è stata di cattivo gusto anche a casa e dopo un po mentre che sui social si stava scatenando il putiferio alfonso fin signorini che ha permesso a ballotelli di fare un aperitivo con i ragazzi ha chiesto proprio di chiedere scusa e diane infatti gli dice così mario però devo dirci una cosa molto importante e che mi sta molto a cuore mario ha regalato a tutti una grande emozione vedendo suo fratello purtroppo hai fatto una battuta molto ma molto pesante e sgradevole a diane che io non avevo sentito ma mi sento in dovere di dirlo adesso era dice alfonso una battuta fuori luogo molte donne si potevano sentire offese sarebbe bello che tu chiedessi scusa se chiedi scusa e per il bene di tutti non posso ripetere ovviamente la battuta mario ballotelli ovviamente ha detto di non ricordare assolutamente ciò che aveva detto e dice non ne ho idea alfonso io posso chiedere scusa quando vuoi però ti giuro non so quale sia la battuta scusa diane se ti ho offeso in qualsiasi modo sai che ti voglio un bene dell'anima ballotelli si dice oscuro della battuta che ha fatto ma penso che la sapeva e anche molto bene visto che ci ha fatto una risata su voi che cosa ne pensate scrivetemelo nei commenti io come sempre vi auguro un buon sabato e un fine settimana da angela da tutto al web grazie a tutti